Strade killer, arrivano i dossi, è infatti iniziata l'installazione da parte della NM, l'azienda napoletana di mobilità delle strisce pedonali, rialzate in alcune strade ritenute sensibili, su proposta dell'assessore alla polizia municipale Antonio De Jesu. Si parte da via Terracina con due dossi e nei prossimi dieci giorni si proseguirà in via Cattolica, Corso Vittorio Emanuele e Corso Malta. Lo scorso settembre, proprio in via Terracina, un'auto guidata da un 38enne, travolse lo scooter su cui viaggiavano Francesco Altamura, di 23 anni, e Lucia Morra, di 20, che morirono sul colpo. Tragica fine anche per Sara Romano. Avrebbe compiuto 21 anni ad agosto l'incidente all'albe in via Cattolica, lo stradone che collega via Cavalleggeri da Osta a Coroio e costeggia l'Exit al Sider, lo scorso 5 maggio. Alla guida dell'auto Marco Coppola, 29 anni, marito e padre di due figli, che dopo l'impatto scappò via. L'uomo, solo alcune ore dopo, quando i carabinieri lo avevano già individuato e avevano bussato alla casa dei genitori, si consegnò. E il comune varrà anche a un pool che dovrà individuare le strade ritenute più pericolose. A tal fine, scrive Palazzo San Giacomo, gli assessorati alla polizia municipale e alle infrastrutture hanno costituito un gruppo di lavoro che analizzando i dati relativi ai sinistri e le caratteristiche delle principali strade di tutte le municipalità andrà ad individuare quelle maggiormente a rischio nelle quali intervenire posizionando i dossi rallentatori di velocità.